Il pomeriggio sarà alle ore 14, quindi due ore per voi per utilizzare l'arena interna, alle ore 14 e riprenderemo con le gare di questo pomeriggio. A presto! Grazie. 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 Grazie a Maggiore Elisa e Slide Hollywood. Elisa, vi preghiamo dopo il controllo di invocatura di rientrare in arena per la premiazione. Grazie. Contento per questo concorrente 70 e mezzo.